Una volta al tempo del fascismo si diceva, mi pare c'era un detto, io ero un fioletto, c'era un detto che diceva, io campare un giorno da leone che cento da pecore, e un giorno è troppo poco anche da leone, e da pecora è molto il tempo, ma insomma uno è troppo sovvinchionato, come si dice, troppo da pecora, sono due estremità, anche io non saprei quale scegliere, però, 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 però.